Spronare i giovani a costruirsi un futuro con tenace e abnegazione. E' l'ex difensore di Juventus e Fiorentina Moreno Torricelli a parlare della sua esperienza davanti agli alunni dell'Istituto Zoli di Atri, in particolare delle classi terze i cui studenti si apprestano a sostenere l'esame di qualifica e dunque un primo passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Nell'ambito del progetto Allenarsi per il futuro, Moreno Torricelli porta la sua testimonianza, testimonianza, dedizione e lavoro per coltivare il sogno di essere calciatore che nel giro di pochi mesi si è trovato dal calcare i campi dei direttanti a indossare la maglia della Juventus con cui ha praticamente vinto tutto e poi le divise della Fiorentina e della Nazionale Azzurra. Guarda, quello è il messaggio che cerchio di lasciare a questi ragazzi e di credere nei propri sogni, lavorare per cercare di esaudirli perché credo che riuscire a vivere della propria passione sia la cosa più bella che una persona possa avere e per cui il messaggio che lascio principalmente è questo di credere nei propri sogni, lavorare per cercare di esaudirli e questo credo che è la cosa più bella che possa capitare a qualsiasi persona. Sono un ragazzo fortunato perché ho centrato proprio in pieno il sogno di qualsiasi ragazzo che gioca a calcio e sono arrivato, come hai detto tu, ho fatto un passaggio incredibile dalla Serie D alla Juventus direttamente, mi sono tolto un sacco di soddisfazioni e posso essere un esempio che quando uno ci crede poi alla fine può capitare l'impensabile. È un bilancio molto positivo, siamo partiti da Atri, da questo bellissimo istituto che ha trovato dei ragazzi molto motivati, una dirigente scolastica insieme a tutto il corpo docente è disponibile a voler sviluppare un progetto che grazie al coordinamento del gruppo Bosch insieme a Randstad e tante altre aziende oggi ci ha visto in questi anni incontrare più di 400.000 studenti su tutto il territorio italiano offrendo oltre 2.000 tirocini all'interno dell'alternanza scuola e lavoro. È una forte valenza orientativa perché fornisce ai ragazzi e ai nostri studenti degli utilissimi spunti di riflessione proprio su come allenare i propri talenti e impostare di conseguenza un significativo progetto di vita.